Goretti verso Asanovic, arriva Klisman e ruba palla, Mihailovic, Bogossian, Ugo e poi Verón Verón salta un paio di avversari, tocca bene per Remy Klisman che ha un brutto controllo c'è libero dalla parte opposta Balleri e riceve, anche Balleri non ha un controllo perfetto poi il suo cross per Klisman, il colpo di testa e il gol di Klisman che porta sul 4 a 2, grande stacco al ventottesimo gol di Klisman seconda rete per il tedesco della Samp, gol importante che porta un po' di tranquillità tra i blucerchiati, bella azione di Verón con Klisman che detta il passaggio a Balleri ancora cross di Balleri, ottima prestazione di Davide Balleri stacco di Klisman, vedete il gran colpo di testa che sfiora il palo alla destra di Difusco